E' fredda la Coggi, eh sì. Puoi sapere una cosa? Forse ci siamo incontrati al casino di Monte Carlo. Non potrebbe essere? A me spero non quella volta che ho perso un miliardo, era insopportabile. Diamoci la mano. Un mio amico si è asperato. Ti confesso che anche a me è capitato di fare una brutta bestia il gioco. Una brutta bestia. Era un abitué una volta. Molto meglio stare qui, non lo trovi? Oh, è il miglior modo per spendere i soldi. Ah sì? Oh, è il miglior modo per spendere.